make you mine cosimo bellanova i colori fluorescenti utilizzati nell'opera di cosimo bellanova si palesano solo grazie all'utilizzo di una fonte di luce alla base del progetto esiste il vuoto cromatico il buio nel quale trovano posti colori la luce e le infinite percezioni che ne susseguono la luce nasce dal buio grazie